Ah, io spesso ho visto i tuoi video. Il primo concetto che si può applicare al marketing è pazzesco. Ok, so che questa è una domanda che fai a tutti. E come dice Giacomo di Entropy for Life, sei un pazzo furioso? La biologia. L'altro giorno stavo facendo un quattro chiacchiere con Giacomo di Entropy for Life, che non è affatto un piru piru qualunque. Da quella chiacchierata mi sono uscite delle idee. Tre idee che si possono prendere dalla biologia o dall'evoluzione per applicare al marketing. Quindi iniziamo. Prima idea. Questo è un ombrello. Bellino è un ombrello. Una volta la gente lo usava per il sole. Poi un giorno qualcuno ha detto, beh, usiamolo anche per la pioggia. E un oggetto che si chiama ombrello, che quindi serve per fare ombra, è stato usato per ripararsi dalla pioggia. Il tipo che ha avuto l'idea di dire, ah, guarda, l'ombrello lo usiamo per la pioggia, è un genio. Questa cosa in biologia o nell'evoluzione si chiama cooptazione, o dall'inglese exaptation. Una struttura, un oggetto, viene preso da un ambito e usato in un altro. E così un oggetto che serve per ripararsi dal sole diventa perfetto per ripararsi dalla pioggia. Questo genere di cose succedono sempre durante l'evoluzione. Un esempio emblematico da strapparsi i capelli sulla testa è quello del latte. Bellin, all'inizio il latte non era utilizzato, come adesso, come nutrimento per i piccoli. Ma negli antenati dei mammiferi, in cui ancora c'erano le uova, le femmine avevano delle ghiandole che mettevano delle sostanze antibatteriche, sulle uova o sui piccoli. Quindi il latte è nato per motivi immunitari e solo dopo è diventato una sorta di fonte di nutrimento continua per i piccoli. Bellin, un tipico esempio di exaptation. Pensate alle ali degli uccelli. Questa storia è pazzesca. Ci sono tantissime ipotesi su perché gli uccelli hanno sviluppato le ali. Bellin, è facile immaginare adesso le ali degli uccelli e gli uccelli che volano. Ma cosa ci fai di metà ala che si sta sviluppando che non riesci a volare tanto o non voli per niente? Perché è vantaggiosa? Ci sono tantissime ipotesi che stanno vagliando i paleontologi. Molte di quelle sensate hanno a che fare con l'exaptation, con la cooptazione. Probabilmente le ali hanno iniziato a svilupparsi per altri motivi che non erano al volo. Tipo per esempio per fare le danze di corteggiamento. Bellin, tanto più avevi le ali più grandi, tanto più femmine avevi. E quindi un organo che prima probabilmente serviva per attrarre le femmine, dopo diventa un organo con cui praticamente volare. È pazzesco. Tornate all'ombrello, pensate di essere stato l'inventore dell'ombrello. Adesso sareste miliardari. Chissà qual è il prossimo oggetto usato in un ambito che spostato in un altro fa fare un sacco di grano. È lì fuori e basta trovarlo, prenderlo e usarlo in un altro ambito e funziona e farci un sacco di soldi. Bellin, guardate me. Quello che facevo io non lo faceva nessuno. Sono arrivato su YouTube e tan! Ho inventato l'ombrello su YouTube. Secondo il concetto della biologia da applicare al marketing. Anzi, questo pezzo lo prendo direttamente dalla chiacchierata che ho fatto con Giacomo. Di Entropy for Life. Eccola qua. Io spesso ho visto i tuoi video e una cosa che ho notato davvero particolare è che a te piace giocare, nel senso tu parli di scienza su YouTube, però a volte fai anche cose strane. Ho visto che hai fatto un video in cui ti sei vestito da Morpheus, di Matrix. Ho visto che ti piace giocare con i capelli. Tipo, ho visto che hai fatto un video con i capelli rossi. Ma come mai? Eh sì, era per... Praticamente stavo facendo un video di genetica di popolazione e ho detto, beh, usiamo un esempio molto emblematico. Facciamo la genetica dei capelli rossi e c'è questa storia che è un po' diffusa sull'idea che i capelli rossi dovrebbero scomparire, tipo, che in realtà non ha nessun senso. Allora ho detto, beh, usiamo questa scusa per fare un video di genetica di popolazione, ma già che ci sono per farlo più carino mi sono fatto i capelli rossi anch'io. E quindi ho detto, dai, che divertente. Ah, mi ricorda Christian Bale. Presente Christian Bale, l'attore, quello famoso, quello che ha fatto Batman. Sì, sì, lo conosco, lo conosco. Lui perde un sacco di chili. Leggevo l'altro giorno su una rivista che lui piace un sacco agli americani. La gente impazzisce. Sì, sì, è strabravo, è strabravo. Di perdere il peso, di mettere su peso. È uno dei motivi per cui l'hanno candidato un sacco di Oscar. È un po' come te con i capelli. Se facessimo gli Oscar di YouTube, forse tu potresti candidarti a qualcosa, YouTube Italia, per questa cosa qua dei capelli magari potresti anche vincere. È pazzesco. Allora ti piacerà quello che farò nel prossimo video, praticamente. E quello che voglio fare è rasarmi completamente a zero e fare un video in cui faccio finta di essere te. E quindi faccio tutto tipo un video sulla biologia e il marketing, compreso una scena in cui faccio le quattro chiacchiere. Ah, sei un pazzo furioso. Comunque dammi qualche consiglio. Dimmi tre consigli da poter applicare al marketing che ti vengono in mente, guardando gli animali o le piante. Ok, il primo concetto che si può applicare al marketing è sicuramente quello di selezione naturale. È il meccanismo che sta permettendo, o meglio, che ha permesso a tutti gli organismi viventi di esplorare tutta la biodiversità che c'è in questo momento in atto. È in un certo senso un continuo lavoro di trial and error, continuo, generazione dopo generazione dopo generazione, che porta a tutto quello che noi vediamo, o meglio, questo è il principale meccanismo all'interno dell'evoluzione. Un meccanismo di questo tipo, io sono sicuro, succeda più o meno anche nel mondo della vendita, del marketing. Tu hai un prodotto, ma non ne hai solo uno, ne hai di più. Quelli che funzionano di più avranno un vantaggio e poi alcune varianti di quei prodotti lì, di quelli con più successo, inizieranno a diffondersi e così via. Ecco, se il meccanismo è circa lo stesso, ci sono delle cose che possiamo imparare. Innanzitutto, i gruppi animali o i gruppi di piante che hanno una più grande variabilità interna, è più probabile che abbiano successo. E se hanno tanto successo, è anche più probabile che abbiano una variabilità interna. Questo è un po' un paradosso, tanto che ci sono dei gruppi spesso molto, molto abbondanti con tantissime specie. Pensa, per esempio, agli insetti, ai pesci o anche magari ad alcuni gruppi di vertebrati che sono molto, molto ampi, tipo i pipistrelli, ok, rispetto magari poi confrontato con il gruppo degli elefanti in cui rispetto ai pipistrelli ci sono pochissime specie, capito, proprio a livello di variabilità. Ecco, una cosa quindi che diventa fondamentale è creare variabilità, creare tante versioni anche un po' diverse degli stessi prodotti o dello stesso modo di vendere il prodotto nel marketing, in modo proprio da creare variabilità. Questo è una cosa fondamentale, davvero, in ogni suo aspetto. Tanto che, lo sai benissimo, nel marketing si parla spesso di differenziare. Ecco, differenziare è questo, creare tante mutazioni diverse che poi possono essere selezionate. È un po' come per me il ping pong. Cioè, nel senso, io ho giocato per anni, ero fortissimo, giocavo a tornei di tutti i tipi, poi però ho fatto altre cose e queste altre cose mi sono sicuramente andate meglio. E quindi, per fortuna che ho fatto altre cose, perché se avessi fatto soltanto ping pong, adesso lo sarei rovinato. Ecco, sì, sì, esatto. Questo è perfetto come esempio. Nella tua vita hai provato tante cose, il ping pong non ti è andata? Non importa, avevi tantissime altre cose fondamentali. Se tu ti fossi focalizzato soltanto, soltanto sul ping pong, sarebbe stata la fine. Ma dimmi un po'. Dopo continuiamo con gli argomenti. Ma tu, come lo fai il grano? Ok, so che questa è una domanda che fai a tutti, ma per me è una domanda super interessante e super bella, perché i miei nonni erano contadini e quindi questa domanda per me è fondamentale. Io il grano lo faccio come lo facevano tante persone. Allora, a luglio così si ara il campo perché devi fare entrare aria, ci sono vari motivi. Qua c'è anche nell'agricoltura tutto un dibattito in questo momento su quanto sia fondamentale arare, quanto profondo bisogna dare, con che metodi, perché c'è il problema del consumo di suolo che è molto interessante ed è anche spesso legato a questo fattore qua. Comunque, questo è tutto un altro discorso, lasciamolo ad altre persone più competenti. Comunque, dopodiché la cosa importante è seminare. Lo si fa fino a ottobre, primi di novembre, in alcuni periodi, in alcune zone, dipende. Poi c'è anche chi lo fa molto prima, già ai primi di ottobre semina il frumento. E dopodiché bisogna stare attenti a che non arrivino dei patogeni, bisogna stare attenti a non fertilizzarlo troppo, non averlo fertilizzato troppo, perché il grano ha questa cosa strana che se cresce troppo rischi che i primi 20 primaverili lo facciano allettare e quindi perdere poi durante la raccolta. Quindi è davvero un casino e per fortuna negli anni, in realtà più di qualche decennia di anni fa, sono state selezionate delle varietà apposta, più corte, per fare più corte, più o meno alte, in modo che a parità di produttività potessero allettare meno. Quindi anche questa è una cosa che sicuramente ha aiutato tantissimi gli agricoltori proprio per fare grano. Bellissimo! Pazzesco il modo in cui fa il grano quel ragazzo, non è mica un pilu-pilu qualunque. Terzo e ultimo concetto della biologia da applicare al marketing. In natura le collaborazioni più strane sono spesso anche quelle che funzionano di più. Per esempio l'80% delle piante collabora con dei funghi per fare in modo che nelle radici le piante riescano ad assorbire di più, assorbono più acqua, più sali, più nutrienti, e questo le permette di vivere meglio. Piante e funghi sotterranei. Oppure ci sono piante che collaborano con dei batteri per riuscire a prendere l'azoto. Belin! Siamo circondati di azoto nell'aria, ma le piante fanno un sacco di fatica a prenderla. È pazzesca sta cosa! Ma ci sono alcune piante che sono riuscite a collaborare con dei batteri per riuscire a prendere quell'azoto dall'aria e farlo diventare nutriente. Oppure pensate persino ai coralli. I coralli sono animali assurdi. Sono parenti delle meduse che collaborano con delle alghe per riuscire a prendere l'energia dal sole. Un animale tipo una medusa e un'alga. Pazzesco! Questa è una dritta importante. Avete un'azienda? Volete mettere su un'azienda? Avete una qualche idea? Pensate alla persona più assurda con cui potete collaborare. Chi mai avrebbe pensato che l'industria del cibo e le biciclette sarebbero potute andare d'accordo? E invece guardate adesso il mercato di rider quanto sta crescendo. Pazzesco! Siete un produttore di lampadine? Pensate alla cosa più assurda. Che ne so? I profumi. Unite le due cose e fate delle lampadine che emettono profumi nell'ambiente. Cavolo! È il nuovo business del ventunesimo secolo. Pensa al gruppo più assurdo con cui potresti collaborare. Funziona! Viene fuori l'innovazione del secolo. E come dice Giacomo di Entropy for Life ricordatevi che tutto è sempre più complesso. Pensa al gruppo più assurdo con cui potresti collaborare. Pensa al gruppo più assurdo con cui potresti collaborare. Cosa al gruppo più assurdo con cui potresti collaborare. Cosa al gruppo più assurdo con cui potrestiقire. Grazie a tutti.